Autoriciclaggio e maxifrode all'IVA, sequestri per 25 milioni di euro e due persone arrestate. Questo il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Torino. I soggetti coinvolti mediante bonifici bancari disposti in modalità home banking provvedevano a fronte delle fatture per operazioni inesistenti a trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Le somme bonificate in Cina in realtà venivano successivamente restituite in contanti in Italia agli indagati quali avevano nella loro disponibilità anche conti correnti accesi in Svizzera ed in Irlanda. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino con il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti hanno dato esecuzione alla custodia cautelare in carcere per due persone gravemente indiziate oltre al sequestro nei confronti di 5 indagati di 25 milioni di euro. Le indagini avviate nei primi mesi del 2021 dal nucleo di polizia economico finanziaria di Torino hanno consentito di individuare una società di Asti che operava nel settore della produzione di software e che dal 2020 al 2022 aveva ricevuto fatture di acquisto da soggetti economici con sede nella Repubblica Popolare Cinese ed emesso fatture risultate per operazioni inesistenti nei confronti di tre distinte società italiane tutte riconducibili agli indagati. Il valore complessivo circa 85 milioni di euro. Tali società che esistevano solo formalmente hanno poi omesso il versamento dell'IVA dovuto all'erario per circa 13 milioni e mezzo di euro. Un meccanismo che secondo gli investigatori non era indirizzato solo alla realizzazione di sistematiche frode fiscali ma anche all'autoriciclaggio. Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che alcuni indagati quando organizzavano le operazioni di ritiro del denaro contante si riferivano allo stesso definendolo scatola. In qualche caso si è verificato che a una scatola corrispondeva la somma di 1000 euro.